Faccio la stessa domanda che ho fatto al Presidente, si aspettava di fare un 3-0 contro una squadra come il Parese? Credo che oggi la squadra aveva una condizione psicofisica eccellente e visto la qualità dei doti dei miei ragazzi come si stava esprimendo, non ho pensato francamente al punteggio, ho pensato sicuramente di fare una buona prestazione, una prestazione di carattere, magari non eccessa dal punto di vista tecnico ma il Parese ci ha impegnato molto, ci ha dato un po' di pressione soprattutto all'inizio ed era importante approcciare bene la partita nel modo corretto senza eccessivi forzoli, per cui il risultato non è mai prevedibile e la prevedibile è sicuramente una vittoria. L'altro risultato, quello del Legnano, quello che vi aiuti molto, 1-1, ha fatto 1-1? Per cui abbiamo guadagnato ancora un paio di punti, era benissimo, il Presidente farà anche un Natale, tutti noi anche. Sì, sì, anche se lontano il Natale però, immagino e spero che sia un buon Natale. Allora 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 Allora